ciao a tutte e ciao a tutti benvenuti in questo nuovo tutorial dove vedremo come sviluppare il tridimensionale del pacchetto costruttivo io ho realizzato il pacchetto costruttivo di una parete esterna e ho già completato la parte bidimensionale con la relativa tabella e come vedete questo qui ho aggiunto ecco attenzione ai particolari ho aggiunto questi piccoli cerchi rossi che facilitano diciamo la lettura del del pacchetto perché molte volte la semplice linea senza il punto non basta perché non è ben visibile vediamo come ho gestito intanto il layer io ho gestito tutti i layer tramite dei filtri aggiungendo delle all'inizio del nome della una denominazione sempre pp2d che sta appunto per il particolare della parete bidimensionale con naturalmente tutti i vari layer dai retini alle quote e notazioni al tratteggio per indicare le due estremità nel del pacchetto e la tabella e così via poi ho impaginato il 2d in scala 1 a 5 ecco qui ho utilizzato un layer con un cartiglio standard che trovate anche sul sito che potete personalizzare con lo della scuola il nostro nome così via ecco qui l'anteprima del pacchetto vedete anche la differenza tra gli spessori che ho utilizzato ad esempio riempimenti spessore 0.00 del layer e invece spessori più più grandi per esempio degli xlamb la parte strutturale altri elementi ecco tornando nello spazio modello io ho realizzato una copia del pacchetto della sezione orizzontale vi ricordo che questo qui è la sezione orizzontale quindi vista dall'alto e ho reso tutti gli elementi delle poli linee utilizzato nei rettangoli e ho reso tutti gli elementi compreso questo braccio in flessibile e tutti delle poli linee perché poi lo capirete perché naturalmente per facilitare l'estrusione quindi la creazione del modello 3d e poi ho realizzato di nuovo un'altra copia con un altro filtro layer pp 3d appunto per la parte tridimensionale assegnando ad ogni tipo di materiale e poi ho modificato anche il colore ho utilizzato in questo caso sapete che auto da una un grande catalogo dei colori con tutti i pantone e utilizzato dei colori simili livello diciamo concettuale al tipo di materiale è utilizzato per lo strato anche qui naturalmente ogni layer corrisponde a una parte del del pacchetto e del modello ecco questo qui appunto così modo nel momento in cui andremo a fare una modalità di visualizzazione realistica i colori quantomeno si avvicineranno il più possibile ai colori del materiale anzi dei materiali reali ecco faccio intanto un'altra copia perché quando vado a distrudere le linee di base si cancellano quindi vado a fare una copia e vado a impostare la finestra la vado a suddividere la finestra di auto in tre parti ecco molto simili ad altri software di modellazione 3d quando voi aprite auto di solito c'è una vista unica io posso impostare tre parti poi posso anche cambiare il tipo di visualizzazione vi consiglio di mettere nella vista a destra ombreggiato con spigoli e anche nella vista che invece andremo a inquadrare la parte laterale anche lì è ombreggiata con spigoli mentre la vista in alto a sinistra possiamo lasciarla anche il wireframe poi cambiate l'area di lavoro vi ricordo che potete attivarla dalla quella freccia dalla freccia in alto e attivate in posizione dell'area di lavoro e selezionate l'area di lavoro elementi 3d di base che a noi basta per questo appunto per questo primo esperimento per questo primo lavoro tridimensionale su auto qui sulla destra avete la gestione dei layer e vi ricordo che ogni elemento che da distrutto dovrete prima selezionare il layer del materiale giusto in questo caso selezionate sempre cartogesso vado a fare il comando estrudi e lo vado a distrudere verso l'alto quindi verso l'asse z di mille millimetri quindi di un metro ecco io qui sto lavorando in millimetri attenzione ho impostato il file in millimetri e sto lavorando appunto con l'unità misura di millimetri poi vado ad estrudere i listelli nella parte interna naturalmente lo vado ad estrudere per far capire bene lo sviluppo del pacchetto vado ad estrudere progressivamente sempre meno rispetto al primo strato in questo caso il cartongesso vado ad estrudere adesso il braccio flessibile ho impostato un colore grigio perché dovrebbe essere tipo un metallo di sicuro tipo un quindi ho impostato appunto il colore grigio e poi continuo faccio i listelli faccio i bracci flessibili poi arrivo appunto al qui c'ho l'isolante della parte interna che si tratta di una lana minerale sempre in base al pacchetto che io ho selezionato dopo vi dirò anche la fonte a cui ho selezionato questo pacchetto dopodiché tocca l'Xlam l'Xlam è composto da come sapete da diverse tavole in questo caso sono tre strati e sono diciamo è composto da due strati con queste tavole che si sviluppano verso l'altro e invece lo strato centrale si sviluppa in senso trasversale le altre è la caratteristica fondamentale dell'Xlam come tutti sappiamo ecco io vado ad estrudere la parte centrale vado ad estrudere come se fosse una tavola singola quindi la vado ad estrudere di 200 mm in questo caso e poi la vado a copiare quindi la seleziono un tasto ovvio prendo funzione copia e la vado a copiare una sopra l'altra in modo da ottenere questo risultato qui dopodiché non mi rimane altro che estrudere l'ultimo strato con le tavole che si sviluppino nel senso verticale nel modello ecco vi ricordo che questo qui si chiama selezione ciclica quando ci sono delle linee sovrapposte se io attivo selezione ciclica AutoCAD mi permette di scegliere quale elemento voglio selezionare vedete mi chiede quale vuoi dopo le linee e mi indica anche il colore del layer che sicuramente semplifica la selezione degli oggetti 3D ma anche 2D ok vado poi continuo vado a estrudere gli elementi i distanziatori che trovo tra l'XLAM e la parte più esterna dove all'interno poi si sviluppa l'altro isolante in questo caso una fibra cellulosa anche qui vado ad estrudere sempre meno in modo da creare questa specie di scala nella vista tridimensionale poi vado ad estrudere anche il punto di 700 mm l'isolante ecco 700 mm di magari sono troppi quindi faccio inserisco 650 in modo da lasciare intravedere di più gli distanziatori ecco poi continuo con l'MDF in questo caso lo vado ad estrudere sempre verso la sezione di 600 mm continuo poi con i listelli esterni che praticamente vanno a creare già la parete ventilata della parte esterna vi ho visto che nella parte interna c'è un altro tipo di parete ventilata ricavata grazie a quei bracci flessibili che distanziano leggermente di 20 mm per la precisione i listelli dalla parete XLAM ecco per realizzare invece la parte di rivestimento esterno posso utilizzare il comando cuneo il comando cuneo mi permette di realizzare appunto i listelli leggermente rastremati ecco sicuramente una rappresentazione più simile alla realtà ecco vedete come ecco vedete dalla sezione laterale dalla vista laterale come si sviluppa il cuneo appunto è una forma un poligono a forma di cuneo ecco ne faccio uno naturalmente e poi le vado a copiare uno sopra l'altro utilizzando il tasto copia della visualizzazione del modello 3d elementi 3d di base di autocad copiare c'è il punto base poi li copio uno sopra l'altro ecco questo qui è la rappresentazione tridimensionale del nostro pacchetto è praticamente già completa per quanto riguarda appunto la semplice vista 3d adesso passiamo invece alla realizzazione del modello 3d pro esploso l'esploso non è altro che una rappresentazione sempre tridimensionale però con tutti gli elementi che compongono il nostro oggetto in questo caso questo pacchetto staccati tra di loro ok staccati quindi ogni in questo caso ogni strato è distanziato con una misura adesso vedremo circa 50 mm di base dal resto degli altri strati quindi ecco io inizio col cartongesso la doppia esterna lo allontano di 1000 mm anche qui quindi di un metro poi continuo con l'isolante anche qui vedete che allontano sempre meno fatto prima 1000 poi 950 adesso faccio 850 per gli stelli qui farò un 750 per il bracci fessi però vedete qui quello che dobbiamo evitare nell'esploso è la corrispondenza di spigoli e di oggetti gli oggetti o si allontano del tutto oppure si sovrappongono leggermente io qui preferisco farli sovrapporre quindi li avvicino di 30 mm ecco questo qui sicuramente è una lettura sicuro facile della lettura poi dell'esploso vado a selezionare l'XLAM dalla vista in alto a sinistra vista punto superiore comando sposta e li sposto in questo caso di 700 mm tutti gli elementi che compongono l'XLAM quindi tutte le tavole dopodiché vado proseguo con i distanziatori quindi selezione distanziatori ecco qui posso fare un altro comando posso selezionare vedete che gli distanziatori sono tutti degli oggetti singoli dei soldi singoli invece li vado a unire seleziono il tasto unione la funzione unione seleziono i singoli oggetti e poi premo invio quindi unione seleziono tutti i tre oggetti e poi invio in modo da ottenere un unico elemento un unico solido tridimensionale quindi vado a spostare anche qui vado ad impostare 600 mm che direi che non viene poi vado a proseguo con l'isolante esterno in questo caso di una fibra cellulosa e lo vado a spostare di 200 mm perché devo tener conto anche degli spessori degli altri elementi non mi rimane altro che spostare l'MDF anche qui vado di 100 mm vedete già come prende forma anzi come ha già preso forma il nostro il nostro esploso tridimensionale poi ho tutti gli stelli del rivestimento esterno in legno di larice posso selezionarli e se voglio ottenere un esploso più dettagliato posso spostarli progressivamente di 50 mm ogni listello quindi porto 50 il secondo 100 il terzo faccio 150 il quarto 200 il quinto 250 e infine l'ultimo in questo caso segno 6 lo vado a spostare di 300 mm rispetto all'asse x ecco qui l'esploso vedete cancello la linea che c'era sotto e questo qui sicuramente ci può aiutare a capire la composizione di un pacchetto che può essere di una parete esterna come in questo caso piuttosto che di una parete interna piuttosto che di una copertura o un soloio ecco non ci rimane altro che andare ad impaginare questi elaborati cosa faccio io ho già un layout dove ho impaginato il bidimensionale vado a fare una copia sposto copia sposto alla fine crea una copia ok ecco che mi crea una copia identica del layout vado a modificare il nome lo chiamerò layout a 3 3d vado a cancellare la finestra attuale che non mi serve vado a modificare il cartiglio metterò tavola 2 tavola parete esterna esterna non 2d ma bensì 3d le scale adesso poi dopo vedremo perché utilizzeremo sicuramente delle scale diverse per l'impaginazione degli elaborati qui vado a fare finestre di layout dove ci sono già delle diciamo delle viste preimpostate del layout delle finestre ad esempio qui ne utilizzo 3 ecco dove metterò i miei tre elaborati il 2d l'esploso e infine la vista tridimensionale semplice chiamiamolo ecco qui appunto selezionando poi la parte dedicata alla finestra scudendo naturalmente il cartiglio si creano automaticamente tre finestre dove nella prima in alto a sinistra andrò ad impaginare il 2d con la relativa tabella in scala 1 a 5 naturalmente non riusciremo riusciremo più a farlo entrare in quella finestra faremo in scala 1 a 10 ok importante vi accomando la quota totale del del pacchetto ecco qui ho sbagliato io ho fatto le finestre utilizzando un layer sbagliato quindi vado a selezionare il layer che ho fatto appositamente che appunto l'ho chiamato cartiglio ho inserito tutti gli elementi all'interno del layout vado a selezionare cartiglio vado nuovamente a selezionare le tre finestre che ho creato e li vado ad inserire all'interno del layer cartiglio poi in basso a sinistra invece andrò ad impaginare ad inquadrare l'esploso anche qui utilizzerò la scala 1 a 10 in questo caso è sempre troppo grande 1 a 10 invece andrò ad inserire 1 a 20 infine nella parte destra nella parte diciamo della finestra più grande andrò ad impaginare la vista tridimensionale semplice in questo caso posso impaginare in scala 1 a 10 perché la finestra ci permette di inquadrarla del tutto all'interno ecco vedete che ho il disegno qui che dello spazio modello mi dà diciamo leggermente fastidio posso naturalmente spostarlo dal modello spostandolo dal modello mi scompare da quella finestra lì del layout oppure volendo potrei potevo anche restringere semplicemente la finestra però poi dovevo eliminare i bordi della finestra quindi faccio in questo modo qui che è più semplice sicuramente più sbrigativo vado a spostare sempre in modo ordinato quel modello lì in 2d in modo da farlo scomparire dalla finestra e lasciare le finestre libere da oggetti che non voglio stampare o quantomeno esportare il pdf vado a fare una prima anteprima nella tavola vedete che non si presenta affatto male ecco qui abbiamo il bidimensionale con le relative lettere ecco mi sono appena accorto che la tabella risulta con bordi troppo spessi troppo marcati quindi esco dall'anteprima torno nelle proprietà dei layer e vado a controllare che le layer tabella abbia lo spessore corretto in questo caso c'è il default andiamo ad impostare 0.00 andiamo a ricontrollare l'anteprima vedete che adesso la tabella ha diciamo allo spessore sicuramente più corretto ecco questo qui diciamo che è l'elaborato finale del nostro pacchetto costruttivo in questo caso appunto della parete esterna e dove ho preso io ecco devo andare a modificare ecco l'info sulle scale vado a scrivere varie visto che ho utilizzato diverse scale per ogni elaborato sicuramente potrei andare a specificare il tipo di elaborato e la scala utilizzata su ogni finestra quindi vado a fare una casella di testo e vado ad inserire ad esempio per la parte in alto a sinistra sezione 2d vado a indicare anche la scala in questo caso è una scala 1 a 10 quindi scala 1 2 punti 10 vado a confermare la casa di testo vedete che il testo è troppo grande lo vado a dimezzare inserire appunto la grandezza all'altezza di testo vado a mettere non 5 addirittura ma addirittura metto 3 che va più che bene naturalmente vi ricordo che io sto lavorando in millimetri anche sul layout l'unità di misura rispetto all'unità della spazio modello è 1 a 1 quindi un'unità uguale un millimetro vado ad impostare 3 vado a copiarlo anche sull'elaborato in basso a sinistra sull'esploso attivo l'ortimo da farlo corrispondere confermo e qui andrò ad inserire invece esploso tridimensionale anzi potrei no imposto invece esploso 3d è più sintetico scala in questo caso non è 1 a 10 ma è 1 a 20 dopodiché vado a fare un ulteriore copia per l'elaborato tridimensionale semplice qui posso semplicemente inserire vista 3d e vado a modificare la scala che non è 1 a 20 ma in questo caso l'ho inquadrato l'ho impaginato in scala 1 a 10 perfetto in realtà non mi piace del tutto così vado a spostare nell'angolo in basso a sinistra di ogni finestra quindi metto così come quello lì nella vista semplice questo abbasso un po' perfetto mi dà l'impressione di essere sicuramente più ordinato vado di nuovo a rivedere l'anteprima ecco sicuramente così la tavola risulterà più completa ecco notate il nome dello studente Rossi Valentino che non sarebbe piaciuto avere come studente Valentino Rossi magari ecco ecco qui l'elaborato finale ecco dove ho preso io questo pacchetto qual è la fonte diciamo è la mia fonte che ho utilizzato per il pacchetto costruttivo dove ho ricavato naturalmente i materiali gli spessori notate qui c'è una sigla e la fonte di riferimento è il sito dataots.eu è un sito dove dei professionisti danno gratuitamente la loro conoscenza sul settore delle costruzioni in legno ecco qui questo qui il pacchetto di riferimento che ho scelto io con tutte le relative tabelle o io ho selezionato poi l'alternativa la variante con scritto 04 finale ho indicato la sigla all'interno della mia tabella con i relativi materiali e spessori ecco qui vi mostra anche un'anteprima tridimensionale del pacchetto vedete che è molto simile alla nostra ecco questo qui naturalmente è un sito che vi consiglio vivamente per chi lavora o chi sta studiando all'interno delle costruzioni in legno perfetto ragazzi e ragazzi io vi saluto spero che sia stato sempre tutto abbastanza chiaro me lo auguro ecco piccolo piccolo dettaglio vado ad aggiungere la fonte per correttezza nei confronti di questi professionisti che mettono a disposizione il loro sapere vado ad aggiungere la fonte all'interno della tavola mi metto fonte due punti sito dataots.eu ragazzi è tutto e vi saluto ci vediamo spero presto grazie 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 grazie